Grazie Grazie Partita la seconda serie dei 300 stampoli cadette Grazie Partita la seconda serie dei 300 stampoli cadette ripeto Sofia Conci Quercia Partita la prima serie dei 300 stampoli cadette la serie più forte il bagno ricordiamo niente meno che il titolo regionale da tenere d'occhio in quarta corsia e via caffè stringa accreditato di un ottimo 39-66 colui in gara buon belklads K 12 gana gana torta 40 e 10 il suo crono Grazie a tutti. Grazie a tutti.